Siamo qui alla chiusura del muro con la collaborazione del team Scrivo i Sound Mi chiuderò dentro al muro per vedere se le staffe sono fatte bene Vai Vai Ok A posto, perfetto C Ah, se sta bene, eh Sì Fregate ancora, le staffe al porta precise Dei fuori con me Preciso, vabbè, poi ci stava capito Eh, provaci quella tra, quella da tavola Gli voleva stavite, però Oddio, come rendona qua dentro Vabbè, se scappo ci vediamo Ciao